Una volta descritti i tre sistemi di recupero credenziale fin qui sviluppati, adesso vi mostro gli altri fattori di autenticazione con cui confermare la nostra identità. Quando risultiamo perfettamente autenticati, ad esempio subito dopo la prima registrazione o subito dopo un recupero, possiamo accedere alla pagina secondo fattore di autenticazione. In questo video vi parlerò di webout, cioè riconoscimento biometrico. Nel mio caso utilizzerò il lettore d'impronte presente nel mio dispositivo. Quindi avviamo la scansione del lettore biometrico, lui ci chiederà di passare il dito sul sensore ed ecco che ci avrà registrati. Impronta rilevata correttamente. Adesso proviamo a utilizzare direttamente questo sistema di riconoscimento, quindi torniamo alla pagina iniziale e proviamo ad accedere ancora senza nessun nome utente né email perché riconosce il dispositivo. Quindi lui ci chiederà di confermare la nostra identità. Di nuovo il lettore biometrico, questa volta è in lettura, non è più in registrazione. Passando il dito, ecco che ci ha confermato correttamente. In alto a destra infatti possiamo vedere l'icona con l'impronta.